Buongiorno a tutti amici, un saluto da Gianluca Castellano. È arrivato il giorno, il giorno della vigilia di Inter-Juventus per quanto mi riguarda la partita più attesa del campionato e penso che sia così per tanti tifosi, sia interisti che juventini. Detto ciò, la prima cosa che vi voglio dire è che domani finalmente tornerò a San Siro, dopo un anno esatto perché l'ultima volta sono stato a San Siro il 29 ottobre del 2023 per Inter-Roma, vincemo 1-0 gol di Turam, poi salì il 22 aprile il giorno dello scudetto ma non a guardare la partita ma andai a vedere la partita in un pub e poi a seguire i festeggi. Tutta la notte, poi lo scorso anno andai a vedere un po' di trasferti a Roma, a Salerno eccetera eccetera, però da San Siro ci manco da giusto un anno. Sapete benissimo la mia tradizione quando vado a guardare le partite e speriamo che questa tradizione positiva possa continuare anche per la partita di domani. Formazione. Allora abbiamo delle defezioni importanti, mancano due titolarissimi dell'Inter, il perno della difesa a Cerbi e il perno del centrocampo Cialanoglu. Quindi secondo me la formazione su per giù sarà questa ed è anche quella che farei io. Sommer in porta, i tre di difesa, Pavard, De Vrij, Bastoni. A sinistra Di Marco, a destra Darmian, a centrocampo potrebbe esserci una novità. Io come play metterei Zielinski. Secondo me è quello che può fare questo ruolo meglio dopo Cialanoglu chiaramente. L'ha fatto a Empoli, qualche volta l'ha fatto anche a Napoli. Ha l'esperienza giusta per ricoprire questo ruolo. Quindi lo metterei lì in mezzo come play, come mezziale ovviamente Barella e Miki. Coppia d'attacco Lautaro-Turammo. Secondo me questa sarà la formazione ed è questa quella che farei io. Al limite potrà giocare Bissek al posto di Pavard, visto che Pavard ha giocato in Champions, però in Champions ha giocato anche Bissek. Quindi no, secondo me sarà questa la formazione, quella che vi ho detto. Ma veniamo alla disposizione tattica, al tema tattico della partita. Secondo me, allora Tiago Motta di solito è un allenatore che ti va a pressare alto. Sappiamo bene l'Inter ha l'abitudine di giocare dal portiere, palla a terra, i passaggi, per cercare poi lo sbocco o con passaggi veloci oppure con un lancio di 50 metri, spesso e volentieri da parte di Bastoni o di Cialanoglu che però domani mancherà. Però io sono quasi convinto che per la partita di domani Tiago Motta modificherà questo atteggiamento. Perché Motta, se ha studiato bene l'Inter, sa benissimo che se la vai a prendere alta, ma sbagli il pressing, l'Inter in 3-4 passaggi ti va in porta. Quindi secondo me vedremo una Juventus molto raccolta, in 30 metri, che cercherà di fare una partita piuttosto difensiva e poi di ripartire con i suoi velocisti. quindi Hildiz da una parte e con Sesao dall'altra. E infatti secondo me queste saranno le armi di cui dobbiamo stare più attenti. Cioè i due esterni della Juventus e soprattutto stare attenti a questi contropiedi. Quindi evitare di forzare la giocata, evitare di perdere palloni stupidi a centrocampo. Quindi diciamo, secondo me la partita la farà l'Inter, anche perché ha una maggiore cifra tecnica, ha un maggiore livello tecnico e speriamo che poi questo possesso palla, questo gioco che faremo ci porterà a fare occasione da gol e a fare qualche gol. Sappiamo che la Juventus è la miglior difesa del campionato ad oggi. In otto partite, otto partite o nove partite, mi sembra otto partite, hanno preso un solo gol sul calcio di rigore contro il Cagliari. Quindi è una Juve che non ha mai preso gol su azione. Quindi sarà una difesa difficile da perforare indipendentemente dall'assenza di Bremer. Perché secondo me la Juventus è forte nella fase difensiva, non tanto nei singoli. Perché giocatori come Gatti, Calulu, Savuna, Cabal, cioè non è che stiamo parlando di Sergio Ramos, Rudiger, eccetera, eccetera. E quindi è una squadra sicuramente forte a livello di fase difensiva. Poi è chiaro che in attacco ultimamente, cioè no, in realtà dall'inizio della stagione, ha palesato qualche problema. Sicuramente questo. Quindi venendo a noi sono fiducioso? Sì, se vi devo dire che non sono fiducioso vi direi una bugia. Però occhio ad esaltarsi, a credere che sia una partita scontata, perché sto sentendo in giro, vabbè, vinceremo la Juventus tra le assenze, le assenze c'era anche l'Inter, ma a prescindere un Inter-Juventus è una partita impronosticabile. Cioè posso accettare il fatto che l'Inter sia favorita sulla carta, ma che sia una partita semplice e scontata, non lo posso mai accettare nella vita. È chiaro che una vittoria nostra ci darebbe una grande energia mentale e soprattutto affosserebbe un po' la Juve, che dopo la sconfitta in Champions, insomma, dovrebbe subire. Un'altra sconfitta sarebbero due colpi pesanti in 3-4 giorni. È un ultimo pensiero, lo voglio dedicare invece ai tifosi della Juventus, che in questi giorni antecedenti alla partita non stanno facendo altro che frignare. E frignano per gli infortuni, hanno le assenze, per carità. Le assenze ce le avete. Coppo Miners, Bremer, quell'altro, Nico González. Per carità, nessuno dice di no. Le assenze, ahimè, ce le ha anche l'Inter. Ma, cosa più stupida ancora, si lamentano della designazione arbitrale guida, perché guida sarebbe un arbitro napoletano, e quindi ce l'ha con la Juventus. Ogni volta che arbitra la Juve ha combinato disastri. Cioè, io, veramente, questi sono discorsi che mi fanno mettere le mani nei capelli, per non dire altro. Che poi, cioè, io devo sentire cose del genere, dette da uno Juventino, quando per una vita intera, nei nostri big match, ci avete ladrato in ogni modo. E mo' è Ronaldo Iuliano, e poi Pjanic, il rigore di Quadrado, il contatto Quadrado-Pedisic, una roba ridicola. Cioè, cito soltanto questi, perché se dovessi ricordarli tutti, non basterebbe un libro. Quindi, giochiamo sta partita. Criticare l'arbitro prima, prima, non serve a niente, perché poi, magari guida, arbitrerà una buona partita, magari non ci sarà nessun errore, e me lo auguro. E allora, tutti quei video che avete fatto, a cosa sarebbero serviti? A nulla. Soltanto a piangere, a frignare. Perché? Perché l'Italia è così. L'Italia è il paese in cui conta piangere, conta lamentarsi, conta il complottismo. Ma pensate a giocare. Pensate a giocare. Che con lo Stoccarda non avete fatto un tiro in porta, e se avete perso, certamente è colpa vostra, sarà colpa delle assenze, ma certamente non colpa dell'arbitro. E quindi, se domenica farai una brutta partita e perderai, certamente guida sarà l'ultimo colpevole. Poi, se vinciamo per un errore di guida, dico, vabbè, allora guida ha sbagliato. Ma critichiamo dopo gli arbitri. Dopo. Magari quando sbaglieranno. Invece, che fa? Criticano prima. Ma che senso ha? Che senso ha? Vabbè, in Italia si deve piangere, e quindi si continuerà sempre a piangere. Detto ciò, vi saluto, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, ci vediamo più tardi per il post partita di Napoli-Lecce, perché alle 15 scende in campo la capolista, una partita sulla calta, sulla calta, sulla carta semplice, anche se partite semplici non esistono. Magari diventano semplici se le indirizzi bene, ma quando c'è il fischio d'inizio si parte tutti 0 a 0, 11 contro 11, e quindi partite facili non esistono mai. Un saluto a tutti, appuntamento a più tardi. E forza Inter, amala sempre!